Autismo a Bruzzolus va avanti, però a volte c'è fatica anche a comunicare, specie magari addetto con la Regione, ma anche con la ASL. Sì, noi stiamo cercando di interagire con gli organi di istituzione regionali, con gli assessorati competenti per le politiche sociali e sanitarie, affinché i problemi che emergono dal territorio vengono affrontati con concretezza, cioè l'abbattimento delle liste d'attesa, assicurare servizi sociali adeguati sul territorio e l'integrazione socio-sanitaria attraverso l'inclusione professionale dei ragazzi adulti, degli adulti con autismo, è il nostro obiettivo. Siamo ansiosi di poter contribuire alle istituzioni competenti di progetti come questo qui che abbiamo presentato oggi a Teramo, del Bluè. Ci siamo riusciti a realizzare un CD che è coinvolto per sei mesi i nostri ragazzi con una rete di professionisti di realtà terramane d'eccellenza, artisti, musicisti, che hanno permesso la realizzazione di un CD e di uno spettacolo che faremo l'undici. Però insomma mancano le strutture, oppure le strutture ci sono, non ci sono i protocolli, avete anche firmato recentemente un protocollo con l'Asle dell'Aquila, però a Teramo non si riesce invece ad andare avanti? Dunque, a Teramo sì, siamo in una fase di stallo, però cercheremo di smuoverla e non a caso abbiamo concentrato le nostre attività su Teramo proprio per significare, per aumentare l'interesse e l'attenzione su questo tema. Anche perché sono una spesa anche per la sanità? Certo, sì, infatti noi quello che stiamo cercando di mettere in luce è che se non si ha un'azione di gestione, di prevenzione delle necessità, dell'esigenza di queste famiglie, può accadere che si è costretti a gestire l'emergenza e impacchettare i nostri figli e portarli in strutture residenziali fuori regione con dei costi insostenibili. Quanta spesa c'è? La mobilità passiva è stimata per la regione Abruzzo intorno ai 10 milioni di euro per la residenzialità delle persone con autismo adulte ed è circa di 2 milioni e mezzo per ogni Asle. Quindi noi diamo indicazioni e suggerimenti affinché questo percorso si trasformi da un'emergenza in un percorso gestito e pianificato che allo stesso tempo spende determinano spese minori ma aumenta la qualità della vita di questi ragazzi e delle famiglie. Le strutture ci sarebbero? Allora, io dunque sull'Aquila le strutture ce le abbiamo, infatti il protocollo a cui accennavi è il protocollo fra il Comune dell'Aquila e l'Aus dell'Aquila che prevede l'utilizzazione di tutte quelle risorse che il Comune ha disponibili e sono utilizzate. A Teramo sarebbero da trovare? Sarebbero da trovare, però non è così impossibile oggi individuare nel giro di qualche anno delle strutture che possono essere riconvertite o comunque riqualificate a questo scopo. L'importante è pianificare un'azione a medio e lungo termine, cioè a 5-10 anni, affinché i ragazzi che oggi saranno gli attori principali del concerto di Bluè, tra 10 anni abbiano un percorso a Teramo o dintorni, perché altrimenti rischeremo di perderli sparpiagliandoli fra Campania, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, cioè quelle regioni che sono costrette ad accogliere i nostri figli da adulti quando il territorio non è in grado di garantire i servizi necessari.